Sicuramente la sicurezza in agricoltura è importante e da qui nasce la necessità di questo convegno dedicato proprio ai finanziamenti del bando E-Nail per l'acquisto di trattori e per mettere in sicurezza le aziende. Sì, abbiamo voluto incontrare tutti i nostri clienti, soci come Terre Padana e le province di Piacenza e Lombardia per presentare le opportunità che ci sono in questo bando E-Nail, queste risorse finalizzate a migliorare la sicurezza delle macchine di trattori in agricoltura, credo sia un elemento già noto nel settore ma molto importante per spiegarne le procedure ma soprattutto per sensibilizzare i nostri soci alla sicurezza. Il tema è sempre più delicato perché oggi innovazione e sicurezza sono sicuramente frontiere che devono essere sempre abbattute perché l'impresa agricola è efficiente se non si riuscirà a competere in termini di innovazione e a garantire sicurezza per il lavoro.